rieccoci rieccoci e non è una giornata semplice naturalmente per i tifosi del milan perché la sconfitta nel derby fa sempre male soprattutto quando arriva con un 3 a 0 poi ci sono tutte le attenuanti del caso il gol annullato a benasser che era da convalidare un milan che ha creato diverse occasioni ho visto ho rivisto gli highlights del match il milan anche nel primo tempo ha tirato diverse volte con leao ha fatto anche un paio di buone parate andanovic un tiro di saleme cares un'occasione perché si insomma il milan le ha avute le opportunità per segnare però purtroppo non segna e proprio sulla problematica dell'attacco andrei a collegarmi con la questione della cessione del club perché il milan che sta per essere venduto al fondo arabo anzi al fondo del bahrain invest corp deve necessariamente intervenire in attacco deve necessariamente rinforzare il reparto offensivo soprattutto sulla corsia destra al posto di saleme cares e messias serve un giocatore forte uno che faccia differenza faccia gol assist va preso anche un trequartista di livello se il milan vuole tenere questo tipo di schieramento questo tipo di modulo il 4231 poi se dovesse passare magari ad un 433 allora cambierebbero alcune cose è ovvio che tutti si chiedono ora quanto questo fondo possa spendere ricordiamo che questo fondo ha comunque un patrimonio di 40 miliardi di dollari il fondo invest corp ma la cosa importante è che alle spalle c'è diciamo il fondo sovrano degli emirati arabi ovvero moubadala è questa la grande garanzia però secondo me è molto interessante capire un concetto il concetto riguardo a questa questi investimenti che vogliono fare nel mondo medio orientale sul calcio e sullo sport in generale perché forse è passato sotto traccia ma nel 2021 c'è stata una coalizione tra il fondo del bahrain e il fondo degli emirati arabi per investire nello sport una coalizione che vede quindi degli sceicchi e dei fondi importantissimi appunto come moubadala che il fondo sovrano degli emirati che ha un patrimonio di 350 miliardi di dollari investire nello sport ovviamente moubadala non può apparire in maniera forte perché è anche all'interno del manchester city il ceo del manchester city appartiene tra virgolette alla famiglia del fondo degli emirati arabi quindi moubadala per questo in maniera velata moubadala e dietro a invest corp con degli investimenti al momento con quote al 20 per cento ma che potrebbe essere il vero diciamo motore di questo investimento verso il milan e verso lo sport e il calcio in generale ripeto nel 2021 c'è stata una partnership una coalizione tra i due fondi più importanti quello del bahrain e quello degli emirati per investire nel calcio investire tanti soldi e il milan viene visto in quel mondo mondo medio orientale come uno dei club che più può svilupparsi a livello globale ecco perché c'è questo investimento nel milan ed ecco perché nel milan si potrebbero investire tante risorse nei prossimi anni probabilmente ecco questa è la chiave di lettura nel primo anno nel primo calciomercato potrebbe esserci un mercato un po più soft sempre comunque investendo tanto ma proprio perché il tutto deve essere diciamo legato alla crescita dei ricavi degli sponsor e del brand milan questo avverrà tanto nei prossimi anni quindi è sempre più probabile che nei prossimi anni una volta che c'è il passaggio di proprietà dal fondo eliot al fondo del bahrain nei prossimi anni ci siano sempre più investimenti importanti nel calciomercato e soprattutto per quanto riguarda anche le infrastrutture del del milan quindi casa milan milanello e lo stadio lo stadio è fondamentale per la crescita del brand e il fondo del bahrain invest corp che ripeto alle spalle mubadala e questa è una la più grande garanzia vuole lo stadio di proprietà e molto probabilmente può anche costruirselo da solo perché ha i soldi per farlo ha i fondi per farlo e evidentemente avendo uno stadio di proprietà che non incorpora più l'inter ma insomma si può costruire uno stadio solamente ed esclusivamente per il milan può essere un forte vantaggio per i rossoneri cosa si aspettano i tifosi giustamente i tifosi si aspettano una campagna acquisti importante ed è quello che credo avverrà perché giustamente questa squadra va rinforzata ma andranno fatte delle spese degli investimenti oculati e mirati in determinati settori del campo io non mi aspetto una campagna acquisti da 300 milioni di euro perché voglio voglio essere quanto più realista possibile ho letto degli articoli che riguardano campagna acquisti da 300 milioni non ci scordiamo che c'è comunque sempre il fair play finanziario però mi aspetto comunque un un mercato importante imponente con nomi importanti con giocatori di livello con giocatori che possono alzare la qualità della rosa giocatori importanti in attacco soprattutto perché è lì che il milan deve intervenire deve prendere un trequartista un esterno destro un sostituto di leao perché rebic abbiamo capito che non è più affidabile un attaccante che possa segnare una ventina di gol a stagione e attualmente l'attacco del milan non presenta giocatori in doppia cifra in campionato leao è quello che ha segnato di più nove gol in campionato e quindi è lì che il milan deve intervenire lo farà credo con l'aiuto di paolo maldini e massara che dovrebbero rimanere dovrebbero essere confermati l'attuale dirigenza potrebbe essere confermata in toto effettivamente il lavoro svolto è stato un buon lavoro sicuramente ci sono stati alcuni giocatori che non hanno brillato mi viene in mente messias poteva essere preso un altro tipo di esterno piuttosto che messias al posto di l'asetic poteva essere preso un altro terzo attaccante un po più pronto o comunque per esempio come il sostituto di teo hernandez ballo tourè fuori dai radar ormai da mesi al di là di questo il resto è stato fatto bene kalulu ottimo colpo a parametro zero tomori grande giocatore tonali grande conferma lì in avanti girù tutto sommato ha fatto una buona stagione leao che è stato preso all'epoca è comunque un grande prospetto megnan che il grande sostituto di donnarumma e ora è diciamo viene valutato all'interno del minano come un portiere ancora più pronto e più forte di donnarumma quindi il minano ha fatto bene in questi due anni ha costruito una base ora però vanno inseriti i giocatori di qualità vanno inseriti giocatori di decisivi ecco il passaggio di proprietà dal fondo eliot al fondo del bareina invest corp può dare questo impulso perché fino ad ora noi abbiamo ragionato sempre come se eliot dovesse continuare ancora per qualche anno quindi nell'ottica del fondo eliot gli investimenti ci sono sempre stati ma sono stati investimenti oculati mirati mai un passo più lungo della gamba con l'arrivo del fondo arabo mi aspetto invece qualcosa di importante di forte anche per dare un segnale un colpo sinceramente me lo aspetto un giocatore simbolo anche per essere ricordato negli annali no ad esempio c'è sempre quel giocatore che viene legato all'ingresso di un nuovo proprietario ecco magari fra dieci anni ci ricorderemo dell'arrivo degli arabi legato anche all'arrivo di un giocatore un giocatore forte di un campione ecco questo mi aspetto il colpo di presentazione del nuovo fondo di investimento arabo vediamo chi sarà vediamo come si modificherà la campagna acquisti perché ad oggi c'è ancora il closing da chiudere da da effettuare quindi finché non ci sarà il passaggio ufficiale di consegne da eliot a invest corp è giusto anche capire bene che tipo di business plan vogliono fare che tipo di acquisti vogliono fare però ripeto mi aspetto un colpo importante soprattutto in attacco nella fase offensiva nel reparto offensivo del milan perché è lì che c'è bisogno oltre ovviamente i vari botman i vari sanchez origi giocatori che erano già stati trattati da maldini e massara vediamo cosa succederà intanto domani il milan riprenderà ad allenarsi così come come ha fatto oggi per preparare la sfida contro la lazio e mancano cinque partite dalla fine del campionato bisogna capire come si chiuderà questa stagione c'è ancora il tempo per vincere un trofeo ma ovviamente qualcosa lì davanti deve necessariamente cambiare perché il non segna più segna molto poco e questo è un problema da risolvere però è stato un problema da risolvere